Giuseppe Carrara, ci sarà l'interessamento del distretto culturale su Palazzo Mosconi, quindi probabilmente riuscirete ad ottenere un finanziamento importante per la riqualificazione di questa struttura? Sì, proprio circa un paio di settimane fa ho avuto contatti con l'assessore Fratta della Comunità Montana e poi con i referenti di Fondazione Politecnico che stanno definendo ormai in fase conclusiva e verrà depositato a breve il progetto del distretto culturale della Valseriana, perché fondamentalmente nel Palazzo Mosconi si potrebbe ricavare quella che è la parte legata all'innovazione della Valseriana, direi, di tutte quelle attività produttive che sicuramente hanno bisogno di un supporto, di un rilancio per lo sviluppo del territorio. Quindi abbiamo pensato al secondo piano di Palazzo Mosconi come luogo deputato a questo tipo di intervento, quindi un intervento di messa a norma del Palazzo per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi l'accessibilità a questo secondo piano, ma anche agli altri piani con il posizionamento sicuramente di un ascensore, di una scala di accesso a tutti i piani. E la riqualificazione, ma la sistemazione di questo secondo piano che attualmente è dismesso, non ha nemmeno impianti elettrici o di riscaldamento e quant'altro, quindi ha bisogno di un intervento radicale per l'inserimento di queste attività che sono legate allo sviluppo di quella che è l'attività ad oggi promossa dallo sport all'innovazione presente nei locali del Comune di Leffe e che nell'ambizione dell'amministrazione di Leffe, ma credo poi del distretto culturale della Valseriana, potrebbe essere l'inserimento di quello che dovrebbe essere l'incubatore di impresa a supporto delle nuove idee imprenditoriali, soprattutto delle giovani generazioni. Quanto costerà questo intervento complessivamente? Ad oggi nel documento preliminare di progettazione abbiamo definito sicuramente tutte le linee di intervento da un punto di vista architettonico e di ristrutturazione, oltre che di attività che nell'immobile verranno inserite. L'intervento complessivo dovrebbe montare all'incirca intorno al milione di Euro e prevede appunto la riqualificazione di questo secondo piano, il posizionamento di questo ascensore, sicuramente dovrà essere rivista quella che è la zona di centrale termica e fondamentalmente questo milione di Euro dovrebbe essere suddiviso per metà con l'intervento da parte dell'amministrazione di Leffe e per metà con l'intervento di Fondazione Cariplo che è l'ente finanziatore di tutto il distretto della comunità montana Valseriana.